Un vento a trenta gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanini, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno i fuochi delle guardie rosse, accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno i fuochi delle guardie rosse, accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messe e uscissero le donne. Poi guardavamo con le faccia, senti, la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi. L'inverno con la mia generazione, le donne curva assunte la hai vicino alle finestre. Buongiorno, soltanto aspettivo Agnieszki, per caso mi incontrai di Kostavinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte in filo di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte in filo di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fiorna di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro di prunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro di prunire. E il mio maestro mi insegnò con piacere. E il mio maestro mi insegnò con piacere.